Ho portato un po' di pale. Che fai? Guarda, questo casale, no? Il prezzo è ottimo. Secondo me, un ristrutturato potrebbe diventare un gioiellino. Vabbè, una vaia d'alternativa, no? Tu sai che io sto aspettando la risposta di una banca. Infatti ho detto una vaia d'alternativa. Per te solo questo casale è casa. E che cosa vuol dire? Vuol dire che per me l'importante è stare insieme a te, Foschina, che sia una zattera in mezzo al mare o una capanna sull'albero. In caso è dove siamo io e te. Vado a vestirmi.